Sono in aumento i giovani che si formano in Molise e poi vanno via. I dati sono stati pubblicati dall'Istat. È soprattutto nel mezzogiorno che la perdita di talenti è particolarmente critica e rischia di influenzare negativamente il benessere e la sua sostenibilità. Essa infatti non è solo un sintomo di una carenza strutturale di adeguate opportunità lavorative, ma si traduce a sua volta nel perdurare di uno stentato sviluppo del tessuto produttivo. Scrivono così i ricercatori dell'Istat nel denunciare la difficile situazione dovuta alla partenza dei giovani dal mezzogiorno, laureati che lasciano la propria terra. Un quadro impietoso anche perché si tratta di giovani formati e per la cui formazione vengono impiegati ingenti risorse, per poi il beneficio della loro preparazione e l'hanno altri territori. Sono dati preoccupanti che una buona volta vanno analizzati e sui quali occorre fare un'attenta discussione. In prima linea infatti c'è proprio il Molise che vede troppi giovani andare via. Il più 2,3% di giovani che lasciano questa terra è stato registrato nel solo 2017 sul 2016. È un indice in crescita che pesa sul bilancio già deficitario dovuto al venir meno proprio della popolazione giovanile che contribuisce non poco ad accrescere il tasso di popolazione anziana in aumento. Lo studio dell'Istat del resto riapre la questione dello stentato sviluppo del tessuto produttivo regionale ma anche della necessità di capacità di spesa dei fondi europei e della necessità da parte del Governo centrale di maggiori fondi proprio indirizzati alla ripresa del Mezzogiorno d'Italia, temi che devono entrare con immediatezza nell'agenda politica regionale.